La morte del musicista Franco Battiato ha commosso molti che con le sue canzoni sono cresciuti. Io ero poco più che adolescente quando i suoi successi scalavano le classifiche di vendita, contesti che al tempo mi sembravano abbastanza astrusi. Poi ho capito dopo come la proposta musicale di Battiato fosse di livello culturale ben più alto rispetto alla media delle produzioni in quell'ambito che chiamiamo musica commerciale. Battiato si esibì anche in Vaticano e questo è sembrato confacente al tempo per un autore sempre attento ai temi della spiritualità. Eppure ho sempre pensato che bisognava da un punto di vista cattolico usare più che qualche cautela nei confronti di un musicista la cui spiritualità aveva connotati più vicini ad un certo esoterismo genoniano che all'autentica fede cristiana. I suoi richiami ai maestri sufi e ai bonzi ad esempio lo fanno attento ad un certo mondo che ha certamente connotati spirituali in senso ampio ma non nel senso strettamente cattolico. Detto questo bisogna riconoscere l'importanza in senso generale del suo lavoro e la qualità e la bellezza di certe sue canzoni come per esempio i treni di Dozer che sono certamente dei piccoli capolavori nell'ambito di quella specifica forma musicale. Mi auguro che in questo momento Battiato abbia trovato quel centro di gravità permanente che cercava nella sua famosa canzone e che possa aver incontrato la verità con la V maiuscola che forse ha cercato per tutta la vita. Anzi in una intervista disse che le meccaniche celesti che aveva cantato le aveva incontrate veramente chissà a cosa si riferiva. Nella stessa intervista quando gli chiesero se si collocava a destra o a sinistra rispose che si collocava in alto una risposta che trovo sicuramente molto arguta. Parlando della sua morte in un'altra intervista aveva detto l'evento straordinario e nefasto ancorché piacevolmente strabuzzino è la morte. Un giorno morirò senza rumore. Accederò a spazi esoterici e sinottici muovendomi in condizioni siderurgiche e negoziali. Addio mondo dirò allora sono morto forever. Io spero per lui come per tutti di aver intravisto la verità vera, quella con la V maiuscola, ed affrontato il giudizio divino di poter vivere la felicità eterna over and over again.